Siamo con il secondo classificato del campionato italiano in tre forze, Vincenzo Matteo. Vincenzo, complimenti, veramente un bel torneo. Sì, ti ringrazio, è un torneo molto tecnico, con giocatori forti, tant'è vero che ci sono produte molte ore per arrivare a questo tavolo finale, arrivare all'head-up, è andata male però non ero partito proprio per vincere, perché i tornei sono difficili, però secondo è un ottimo risultato. Vabbè sì, anche perché la medaglia di Argento è un valore in più. Ascolta Vincenzo, ti abbiamo seguito, hai giocato un ottimo torneo, veramente poi questo zap finale parte in vantaggio circa 3-1 di stack, che cosa è successo? È successo che anche se la regola e la tecnica vuole che nei zap si giochino tutte le carte, ho avuto una quarantina di minuti con carte veramente talmente lontano tra di loro da non poterle proprio giocare. Lui ha recuperato un po' e poi alla fine, come ha raccontato giustamente anche lui, io partivo avvantaggiato con un asso di cuori e lui ha trovato la scala al tar. Va bene così, sappiamo che il gioco è così, quindi bisogna saperci stare. Un otto di cuori che regala la scala all'altro avversario, ma che ti dà ancora una speranza di chiudere colore, ma poi è nulla, non è successo il miracolo finale. Ascolta Vincenzo, già sappiamo che giocherai altri tornei in queste ISOP, quali precisamente? Sì, domani sarò presente al Frizz Out e mi impegnerò come stasera e spero di fare altrettanto bene. Io spero che vinci il braccialetto. Beh, lo sai, è difficile, giochi uno contro cento, uno contro cinquanta. Cominciamo a giocare, poi si vedrà. Va bene, buonanotte con Vincenzo e ci vediamo domani per il Frizz Out. Grazie a voi, un bellissimo torneo, buonanotte a tutti. Grazie a voi, un bellissimo torneo.